Ha ucciso ancora il lupo. Le brave ragazze. Di giorno il lupo ritorna alla sua forma umana. Non vanno. Il lupo è un abitante di questo villaggio. Nel bosco da sole. Dimmi chi è. Dalla regista di Twilight, in prima visione Italia 1. Sta arrivando il lupo. Ti darà ciò che meriti. Cappuccetto rosso sangue. Mercoledì 21 e 10. Funale 39